Tifosi giallorossi, buonasera dallo Stadio Olimpico per questa gara di ritorno. Quinta giornata per quello che riguarda la formazione giallorossa contro il Benevento. Una Roma che deve ottenere oggi tre punti per superare la Lazio. Attenzione perché Benevento all'interno della rigore, occhio qui al tentativo di conclusione. E palla che termina il re del vantaggio del Benevento. Palla proprio per Esciaravi, attenzione a Esciaravi, può mettere dentro la risposta da parte di Pugioni. All'interno del rigore Dzeko che poi trova Under, ancora il cross in mezzo, in colpa di testa! E la risposta da parte di Pugioni. Il tocco di Perotti, il colpo di testa in gol! È arrivato al pareggio della Roma con Federico Fazio. L'azione qui invece a Esciaravi, 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 la risposta di Pugioni. Under accelera, Under, cerca di mettere dentro il pallone. Dzeko! Dzeko! Si è sbloccato il Bosniaco, ha trovato il gol del 2-1! Attenzione a Diego Perotti che può mettere dentro il cross, la conclusione è il gol! E arriva il gol del 3-1, Under! Ancora lui, sull'assist di Diego Perotti, trova il 3-1! Una possibilità per Under, che può andare quasi a tiro con il sinistro, lo prova, Under! Ancora il piccolo Turco con il sinistro! Ierme, l'appoggio all'interno di Diego, il cross! E c'è il gol del Benevento, incredibile! 4-2! Il pallone per Dzeko, Dzeko, Dzeko! Il tentativo di Dzeko! Calcio di rigore! Parte De Frel! E palla che finisce in rete! Occhio ancora al pallone all'interno dell'area di rigore, insiste ancora il Benevento, la conclusione è Alisson, ci arriva! Finisce qui, sul risultato di 5-2! Finisce qui, sul risultato di 5-3!